Un giovane turista francese di 27 anni, Simon Gaultier, risulta scomparso in Cilento da venerdì 9 agosto. Gli amici lanciano appelli su Facebook e chiedono l'aiuto di volontari per cercare l'amico che avrebbe avuto un incidente lungo il sentiero della Molara, nel Cilento. È ferito ed è scomparso da venerdì sera, scrive un'amica Eloise Gregoire su Twitter. È scomparso in Italia nei dintorni di Policastro, il suo cellulare è spento, le autorità lo stanno cercando in vano, serve aiuto. La famiglia intanto chiede più uomini e più mezzi per continuare le ricerche e dalla Francia sono arrivati anche una ventina di amici del ragazzo. Aiutateci a trovarlo vivo, è l'appello della famiglia e degli amici.